Maria Campisi, candidata nella lista numero 2, Caolonia Riparte. Cosa pensate di poter offrire in più ai cittadini rispetto all'altra lista? Personalmente vorrei parlare di alcuni punti di forza del nostro programma. Abbiamo sviluppato 8 punti programmatici, tra cui le politiche sociali. Quindi con un occhio di riguardo alle famiglie e ai disoccupati. Pianificazione dei servizi connessi alla scuola, mensa con periodo prolungato, baby parking, impianti polisportivi per accogliere tutte le realtà sportive del nostro territorio e centri estivi per accogliere bambini e ragazzi dopo la chiusura delle attività scolastiche. Altri servizi per potenziare il centro dell'impiego affinché venga contrastato l'alto tasso di disoccupazione giovanile. E poi abbiamo focalizzato la nostra attenzione anche sul turismo. A cui va affiancato anche un virtuoso lavoro del miglioramento urbano, del decoro urbano. Un altro punto su cui vogliamo porre la nostra attenzione è proprio avere una visione di Caulonia come luogo di attrattività turistica per visitatori e turisti. Ecco che così si possono pianificare attività durante tutto l'arco dell'anno che vanno appunto dalla diversificazione dell'offerta turistica alla programmazione di piccoli e grandi eventi da cadenzare proprio durante tutto l'anno. In questo modo va valorizzato il patrimonio ricchissimo del patrimonio identitario delle frazioni, del borgo e della marina. A questo però va aggiunto uno sforzo per far rientrare Caulonia nei grandi circuiti turistici e culturali con cui la Regione Calabria si sta aprendo al resto del mondo.